Sanje assapora la gioia della sua nuova casa con Gaffur e la dolce Uzum e Gulten, avendo coronato il suo sogno d'amore, è in attesa di un nuovo nato, una svolta drammatica getta un'ombra minacciosa sulla loro felicità. Un terribile incidente sconvolge la vita di entrambe, interrompendo brutalmente il flusso di momenti felici. Se desiderate scoprire cosa riserva il destino a Sanje e Gulten, vi invito ad iscrivervi immediatamente al nostro canale e condividere le vostre emozioni nei commenti dopo aver visto il video. Ora immergiamoci nei dettagli avvincenti della storia. Nel sontuoso scenario di Villa Yaman, l'atmosfera vibra di eccitazione mentre procedono frenetici i preparativi per il matrimonio di Zuleya e Hakan. Nel mentre, Sanje e Gulten, determinate a preservare le terre di Yaman, si impegnano in un'ispezione circostante. Un'ombra di sospetto aleggia nell'aria, poiché giunge la notizia che qualcuno sta depredando i loro preziosi prodotti. La conferma arriva quando Sanje e Gulten colgono sul fatto i ladri, dando immediatamente l'ordine ai loro uomini di riempire i camion di arance. Il momento cruciale arriva quando Sanje, senza esitazione, si confronta con il perfido Kolak, minacciandolo con sguardo deciso. Tuttavia, l'audacia di Kolakm non conosce limiti di fronte a una donna e Sanje, con disinvoltura, si allontana insieme a Gulten, annunciando che riferirà tutto a Zuleia, lasciandola affrontare la situazione attraverso la legge. Sanje e Gulten, cariche di determinazione, salgono nel loro furgoncino, pronte a fare luce sulla questione. L'intensità della storia si fa sentire, mentre Sanje e Gulten, a bordo del loro veicolo, si dirigono verso la villa. E sulla strada del ritorno, Gulten e Sanje discutono animatamente su quanto accaduto e su come alcune persone si approfittino di ogni situazione. Il buio della notte avvolge la strada mentre il loro furgoncino procede e l'atmosfera è carica di tensione e riflessioni. Improvvisamente, un colpo forte rimbomba dietro di loro, facendo sobbalzare Sanje. Con il cuore che batte veloce, capisce immediatamente che la ruota è scoppiata. Scendono entrambe dal furgoncino per verificare l'accaduto. Sanje, con occhi preoccupati, afferma con desolazione ciò che aveva temuto. Devono cambiare la gomma. Il terreno è freddo e irregolare sotto i loro piedi mentre cercano di smontare la gomma. Tuttavia, un imprevisto, la gomma sfugge loro di mano e inizia a rotolare lungo la strada buia. Senza esitazione, Sanje e Gulten corrono dietro di essa, cercando di fermare la corsa incontrollata. La tensione cresce e il suono dei loro passi si mescola al rumore della gomma che rotola sulla strada. Quando finalmente riescono a fermarla, sono entrambe senza fiato. Ritornano verso il furgone per completare il lavoro necessario e riprendere il cammino verso casa. Mentre procedono con la loro missione, succede l'imprevedibile. Improvvisamente un camioncino si avvicina a velocità folle da dietro una curva. A bordo, due uomini litigano animatamente riguardo all'incidente appena accaduto con Sanje, Gulten e Kolak, il crudele e feroce Kolak. Questo nuovo personaggio sarà estremamente ambiguo, inserendosi con forza nella trama di Terramara. Sarà interessante vedere quale ruolo svolgerà nel corso degli eventi futuri, poiché promette di rivestire un ruolo di grande importanza, influenzando tutte le vicende in corso. La sua presenza misteriosa aggiungerà un elemento intrigante alla storia, promettendo di mantenere gli spettatori con il fiato sospeso durante tutte le varie dinamiche in evoluzione. Kolak è furioso con il nipote che è alla guida del furgone, distratto da loro litigio, non guarda attentamente la strada davanti a loro. Poi un colpo fortissimo attira la loro attenzione. Il camioncino frena bruscamente e, girandosi indietro, gli uomini scorgono sul selciato due corpi inermi. Sono Sanje e Gulten. Presi dal panico, litigando, prendono una decisione drastica. In preda alla disperazione, scrutano intorno, cercando se qualcuno abbia assistito all'incidente. Non vedendo nessuno, decidono di fuggire, ignorando completamente le due donne a terra, senza prestar loro soccorso e senza verificare se siano ancora vive, né tantomeno portarle all'ospedale. Il nipote obbedisce agli ordini tassativi dello zio e si allontana furtivamente dall'incidente, cercando di evitare di essere scoperto e coinvolto. Vediamo l'arrivo di altri automezzi che si fermano immediatamente per verificare lo stato di salute delle due sfortunate ragazze. Dopo una breve discussione tra di loro, i soccorritori devono purtroppo constatare che entrambe sono decedute. Con la pietà che compete a ogni essere umano, cercano almeno di coprire il volto delle due ragazze a seguito di questo doloroso incidente. Nei successivi episodi della soap assisteremo alla cerimonia funebre di Gulten e Sanje, un addio struggente che farà scoppiare in lacrime i vari protagonisti della storia. Questa tragica uscita di scena non passerà di certo inosservata, nemmeno tra i numerosi fan di Terramara, che dovranno prepararsi a dire addio a Gulten e Sanje. L'attrice che interpreta Sanje, nel momento in cui è andata in onda la sua ultima puntata in Turchia, ha salutato tutti e ringraziato attraverso un post apparso sulla sua pagina ufficiale di Instagram. In questo modo si è congedata dalla serie di grande successo che ha conquistato il cuore del pubblico in patria. Aveva salutato tutti e ringraziato tutti attraverso un post apparso sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Lei si è congedata in questo modo da questa serie di grande successo che in patria, ma guardate un po', la nostra amatissima soap Terramara non smette di sorprenderci. Dopo aver fatto breccia nei cuori del pubblico in patria in Spagna, ora sta conquistando anche l'Italia con uno straordinario successo dal punto di vista dell'Auditel. Ma ora passiamo a voi, cari spettatori. Prima di scoprire la parte più coinvolgente e commuovente di tutto questo video e credetemi, lo è davvero. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, è facile, basta cliccare sulla campanellina. E ora una domanda per voi. Vi piacerebbe scoprire come Gaffur reagisce alla notizia? E cosa ne pensate di Zuleia, distrutta, affranta, spaesata senza il suo braccio destro e la sua amica del cuore e senza la preziosa presenza di Gulten? Sì? Allora, preparatevi per nuove emozioni e sorprese. Nonostante in villa si respiri l'atmosfera festosa dei preparativi per una festa, ecco apparire la camionetta della polizia che richiede la presenza di Gaffur. Quest'ultimo, giungendo sul luogo, si impegna a mantenere un tono leggero, scherzando con il comandante e cercando di preservare l'aria gioiosa della festa. Tuttavia, il comandante, pur rispettando la gioia circostante, si trova costretto a comunicargli una notizia terribile, completamente inattesa. Il momento in cui il comandante, di fronte a Gaffur, assume un atteggiamento serio e Gia e comunica che Sanje ha avuto un incidente. Gaffur, balbettando e temendo un crudele scherzo, si ritrova sbalordito quando il comandante, Jlai, conferma la terribile notizia. Sanje non c'è più, è morta. Gaffur, guardando spaventato, crolla a terra in balia di parole che faticano a trovare significato, mentre gli altri uomini attorno a lui cercano a stento di sorreggerlo. Le grida di disperazione si propagano nell'aria e Gaffur, Fadik e Cetin rimangono come sospesi nell'orrore, venendo a sapere che Gulten è gravemente ferita, in coma, all'ospedale. Nel frattempo, udendo le grida disperate, Lutfie e Zuleia escono di corsa dalla villa. Con orrore scoprono la tragedia immane che ha investito tutti. Zuleia, sconvolta, perde due persone estremamente importanti per lei. Sono state le uniche che l'hanno sostenuta, aiutata e addirittura supportata nei momenti di abbandono, tristezza e solitudine. Sono stati il suo ancora durante le brutture che la vita le riservava in quei momenti difficili. La tragedia ha lasciato una ferita profonda, segnando per sempre la vita di Zuleia e di tutti coloro che orbitano attorno a questa drammatica vicenda. Le notizie sulla tragica circostanza che coinvolge Sanye e Gulten si diffondono, portando dolore e disperazione a tutti. Gaffur, Fadik e Cetin sono sbigottiti dalla notizia dell'incidente. Gaffur, in particolare, è colpito dal dolore, cercando di venire a patti con la perdita imminente. Gaffur si precipita come un uragano all'ospedale, il cuore in tumulto, desideroso di scoprire la verità. Corre freneticamente per i corridoi. La paura che l'incubo possa essere reale cresce dentro di lui. Arriva alla camera mortuaria e il suo respiro si blocca nel petto quando vede Sanye, immobile e silenziosa. Il suo impeto feroce si placa improvvisamente, sostituito da un'incredibile dolcezza. Con passi lenti e attenti, cercando di fare il minimo rumore possibile, si avvicina al corpo di Sanye, ormai privo di vita. Gaffur si inginocchia con delicatezza accanto a lei, come se temesse di disturbare il silenzio della morte. L'atmosfera gelida dell'obitorio diventa ancora più intensa e Gaffur si ritrova solo con il suo dolore. Il suo sguardo si posa su Sanye con amore e struggimento, mentre il peso della realtà si fa sentire con un'opprimente pesantezza. Gaffur implora disperatamente la moglie Sanye, distesa sul lettino, di alzarsi e andare via. Le sue parole sono cariche di dolore e il suo cuore è pervaso dalla disperazione. Mentre affronta la realtà della perdita, Gaffur tenta inutilmente di convincere Sanye ad alzarsi, a non lasciarlo solo. La freddezza dell'ambiente amplifica il gelo interiore di Gaffur che supplica Sanye di non abbandonarlo. Alzati amore mio, andiamo da qui, lasciami essere il sacrificio. Alzati e andiamo via Sanye. Fa così freddo qui, un freddo che gela l'anima. Per favore alzati, non lasciarmi. Non so come vivere senza di te. Ti giuro su Dio, non lo so. Mi ucciderò Sanye, mi ucciderò. Non posso vivere, non posso vivere senza di te. Ogni secondo senza di te è un tormento. Alzati, alzati amore mio. Lasciami essere la tua vittima. Andiamo via di qui, Sanye. Non lasciarmi nemmeno un secondo solo. Le parole di Gaffur esprimono un dolore profondo e una disperazione che permea l'intero ambiente, un lamento struggente per la perdita irrimediabile della sua amata Sanye. Lentamente stringe la mano senza vita di Sanye tra le sue, cercando conforto nell'ultimo contatto fisico con la donna che ha amato così profondamente. In quel momento, Gaffur vive il dolore di un addio incommensurabile e il silenzio dell'obitorio si riempie solo con il suono dei singhiozzi soffocati di un uomo che ha perso la luce della sua vita. Nel corso dell'intervento chirurgico di Gulten, la tensione nell'aria è densa di disperazione. L'equipe medica si sforza al massimo per cercare di salvare la vita di Gulten, ma ogni attimo è pervaso dalla paura dell'irreparabile. L'agonia di questa lotta tra la vita e la morte è palpabile, sottolineata dagli sforzi frenetici del personale medico, dai battiti cardiaci misurati e dalle misurazioni della pressione che narrano il dramma in corso. Cetin, immerso nel suo dolore, condivide parole cariche di rimpianto e tristezza, esprimendo l'amore per sua moglie Gulten. La Cetin affronta la possibilità di perdere la persona che ama più di ogni altra al mondo. Il racconto si dipana tra momenti di intensa emozione, con la promessa di non dimenticare mai e l'accettazione ineluttabile del destino. Fiqueret giunge per offrire il suo sostegno a Cetin, ma l'attenzione si sposta di fronte al grande vetro, dove si intravede Gulten, con i macchinari che la tengono in vita. Poi, improvvisamente, il cuore di Gulten si ferma. La macchina che segnala il suo battito cardiaco si arresta e, dietro lo specchio, il cuore di chi attende con ansia si ferma insieme a lei. I medici intervengono freneticamente, cercando di riportare in vita quel cuore, ma il dramma è inarrestabile. Il dottore tenta la rianimazione più e più volte, ma Gulten se ne va definitivamente. Viene dichiarata morta. Gaffur, senza più lacrime da versare, e Cetin, vedendo svanire il suo amore e il loro bambino tanto desiderato, sono testimoni impotenti della fine di ogni speranza. Cetin entra nella stanza, scopre delicatamente il viso di Gulten, esprime il suo dolore e le rivolge parole struggenti. Baciala sulla fronte e, cedendo al pianto disperato, comprende che è giunta la fine di tutto. A scena si sposta al cimitero, un luogo intriso di silenzio e tristezza. Gaffur, devastato dal dolore, si inginocchia di fronte a entrambe le bare. Le sue mani tremano, mentre accarezza amorevolmente la bara della sua adorata moglie, Sanie, e quella della sua cara sorella, Gulten, che a breve avrebbe reso zio. Il suolo freddo del cimitero sembra risuonare con il peso della perdita. Gaffur, in un gesto commovente, sfiora con dolcezza le superfici delle bare, come se cercasse di trasmettere il suo amore attraverso quei sottili confini tra la vita e la morte. Il vento leggero fa frusciare le foglie degli alberi circostanti, mentre Gaffur, inginocchiato nella sua disperazione, trova conforto nel toccare quei luoghi che ora custodiscono le persone più care della sua vita. Il cimitero diventa il palcoscenico di un addio struggente, dove il dolore si mescola con la consapevolezza di aver perso due anime care in un tragico istante. Lentamente, lasciando Gaffur a terra, abbandonato al suo dolore, le persone presenti prendono le bare solennemente. Con un profondo senso di tristezza, iniziano a muoversi, accompagnando con rispetto e reverenza le salme dei loro cari verso quello che sarà il loro luogo di riposo eterno. Gaffur, rimasto come un'anima persa, segue le bare con sguardi vuoti e passo pesante. Il suo dolore è palpabile, come un'ombra che lo avvolge e lo accompagna in questo triste corteo funebre. Dietro di lui, Zuleia e Lufthime tengono la piccola Uzzum per mano, cercando di confortarla in questi momenti difficili. Il silenzio del cimitero è rotto solo dal suono lento e solenne, dei passi e dal mormorio sommesso delle persone presenti. Le bare, portate con rispetto e amore, rappresentano il passaggio doloroso verso l'ultimo riposo. Gaffur, senza più anima, segue il corteo, mentre Zuleia e Lufthime, con cuori pesanti, cercano di dare forza a Uzzum in questo momento di tristezza e commiato. Ooi, con delicatezza e rispetto, iniziano a coprire le tombe con la terra. Gaffur, Fikheret, Cetin e tutti coloro che avevano amato profondamente Sanie e Gulten, si impegnano a compiere questo atto con leggerezza, come se cercassero di donare un abbraccio finale alle loro amate. Le lacrime solcano i visi di tutti i presenti, lasciando un solco di tristezza profonda. Nell'aria pesante del cimitero, il suono della terra che cade sulle bare diventa un addio commovente, un gesto che sancisce la fine di una storia terrena e il passaggio a un nuovo capitolo. La piccola Uzzum si avvicina e si aggrappa alla gonna di Zuleia, come se volesse chiedere conforto o aiuto. In questo momento di dolore collettivo, il gesto spontaneo della bambina diventa un simbolo di bisogno di affetto e protezione, un modo di affrontare insieme la tristezza che avvolge tutti i presenti. Gaffur, con le mani tremanti, accarezza la terra sulla tomba di Sanie, rivolgendo le dolci parole. Chiede perdono e implora il suo ritorno, mentre il dolore profondo si legge nei suoi occhi. La tristezza nelle sue parole si mescola con la speranza di un miracolo, sperando che Sanie possa tornare da lui. D'altra parte, Cetin rifiuta ogni aiuto mentre cerca di coprire la bara di Gulten. Il suo dolore è così acuto che vuole affrontare personalmente l'atto finale di seppellire la sua amata sorella. Con il cuore pesante, lotta con la terra, cercando di onorare Gulten nel miglior modo possibile. Mentre Cetin cerca di mettere la targa sulla tomba, la sua sofferenza è evidente. Tuttavia, Fikheret, comprensiva del suo dolore, si avvicina per aiutarlo. Con gentilezza, leva la pietra dalle mani di Cetin e procede a fissare la targa con il nome di Gulten sulla tomba. È un gesto di sostegno, un atto di compassione per alleviare il peso del dolore che tutti condividono in quel triste momento. E tombe di Sanie e Gulten sono ormai davanti a loro, segnando il triste epilogo di due vite amate. Uzum, con gli occhi lucidi, si avvicina alla tomba di Sanie e la sua mamma e depone nella terra la sua collanina di turchesi, il dono più prezioso che possedeva. Con un tono di voce sommesso, le dice che le terrà compagnia, un tributo affettuoso alla sua defunta mamma. Nel frattempo, accanto alla tomba di Gulten, Cetin, visibilmente affranto, saluta per l'ultima volta il suo amore. Con le lacrime agli occhi, le chiede di prendersi cura del loro bambino, che lei sia portata con sé per sempre. Con un gesto commovente, estrae dalla tasca della giacca le piccole babbucce del loro bambino e le posa delicatamente sulla tomba. Gulten, nella sua nuova dimora, riceve il messaggio di affetto di Cetin e il dono per il loro piccolo, che ora custodirà con amore eterno. Ed ora, cara amica, ho bisogno di te. Dopo esserti iscritta al mio canale per scoprire il prossimo video che ti preparerò, fammi sapere nei commenti, se ti piace, come io racconto le emozioni dei video. E devo dire che io, mentre lo preparavo e montavo mano a mano il tutto, le lacrime mi scendevano libere sulle mie guance e facevo fatica a vedere quello su cui lavoravo per te. Che effetto ti hanno fatto? Me lo fai sapere? Scrivilo qui sotto, fammelo sapere. E poi vi aspetto tutte e tutti al prossimo video.